Il vetro dà questa ricchezza quasi da cristallina di diamante perché è una forma in qualche modo che ricorda il diamante e poi la fine. E questo ti dà una sensazione di forma che pur essendo una forma cilindrica semplice ha un grande contenuto perché basta girarci attorno a questo vetro e si scoprono sempre delle prospettive diverse, si scoprono sempre delle luci diverse. Il diffusore di vetro che è fatto di vetro stampato è uno spessore importante per cui emana una luce cristallina pulita che naturalmente si differenzia da tutti gli altri materiali che va dal plessica, dalla plastica, a qualsiasi altro materiale. Si potrebbe parlare di luce ecologica, che è una luce più cristallina, più trasparente, più pura. Si sente che è una luce vera. Questa lampada anche quando è spenta ha la sua luce propria perché il vetro in parte satinato e in parte trasparente crea delle vibrazioni, delle pennellate di luce che la rende viva in ogni momento, sia di giorno sia di notte. Qualsiasi riflesso di luce lo assorbe e lo rimanda, per cui è sempre un elemento vivo. Avere una lampada di vetro così in un giardino è come per vedere scorrere l'acqua in un piccolo ruscello. La linea così semplice di questa lampada è per creare una simbiosi con questo tipo di semplicità, di purezza del risultato che ti dà il vetro che assomiglia all'acqua che scorre.